Questo video riguarda i migliori 3 affilacoltelli. Il vincitore della qualità nel nostro affilacoltelli va al Shanzu pietra. Immergere la pietra nell'acqua per circa 5 minuti, in modo che la pietra possa assorbire completamente l'umidità. Utilizzare un dispositivo di affilatura, rettificando avanti e indietro secondo l'angolo della lama. Primo utilizzo 1000 di macinazione 10-15 minuti per una molatura grossolana, quindi utilizzare la macinatura per 10-15 minuti per una macinazione fine. Per mantenere l'umidità e impedire che la temperatura sia troppo alta, è necessario aggiungere acqua o olio correttamente durante l'operazione di affilatura. Dopo aver affilato il coltello, pulire il coltello con un panno umido o sciacquarlo con acqua, quindi sciacquare la pietra da affilatura direttamente con acqua e lasciarla asciugare all'aria. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Longzone affilacoltelli. L'affilacoltelli non è per affilare coltelli seghettati o coltelli in ceramica, ma per coltelli da frutta, coltelli da cucina, coltelli da taglio, forbici, ecc. Non usare forza eccessiva o tirare avanti e indietro durante il funzionamento. Con l'affilacoltelli a quattro stadi, puoi affilare coltelli smussati in modo semplice e professionale. Due livelli di acciaio al tungsteno per forbici e affilatura grossolana, livello di diamante per affilatura fine, livello di pietra ceramica per affilatura di precisione. Il tappetino in gomma antiscivolo sul lato inferiore offre un supporto stabile in modo che non possa scivolare. Abbiamo anche un guanto resistente al taglio per una maggiore sicurezza. È sufficiente posizionare la lama nella fessura e tirare delicatamente più volte il coltello in una direzione per un'affilatura rapida ed efficace. L'impugnatura ergonomica consente un facile utilizzo per destri mani e mancini. La parte inferiore antiscivolo dell'impugnatura mantiene stabile l'affilatoio e si trova comodamente in mano. La piastra antiruggine con cuscini antiscivolo sul lato inferiore offre una base più stabile. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nella fila coltelli è il Tansang a fila coltelli. La fila coltelli funziona bene su tutti i coltelli e le forbici. A fila coltelli dritti, coltelli da caccia e coltellini, coltelli da filetto, coltelli da macellaio, coltelli da cucina, mannaie, cesoie da potatura e coltelli da pesca di tutte le dimensioni. Questo a fila coltelli professionale ha un pulsante integrato per la regolazione dell'angolo da 14 a 24 gradi, in modo da poter impostare l'angolo corretto della lama per affilare coltelli di diverse dimensioni, spessori e bordi fino a ottenere un bordo appropriato. Affila coltelli da cucina con base in silicone antiscivolo sotto il fondo che fornisce una base più stabile quando si affila il coltello. Facile da usare, veloce, sicuro e si adatta ad estrorsi o mancini. Con un manico ergonomico che offre una presa sicura, stabile e che ispira sicurezza. Facile da usare mettendo il coltello in ciascuna delle fessure e tirandolo alcune volte in una sola direzione per un'affilatura veloce ed efficace per ottenere una lama affilata come nuova, ripristinando coltelli o lame di forbici in modo rapido e sicuro. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.